Un codice ristretto promosso dal garante dei detenuti della Campania, Samuele Ciambriello, in collaborazione con il Provveditorato Campano dell'Amministrazione Penitenziaria, l'Osservatorio Carcere delle Unioni delle Camere Penali Italiane e la Camera Penale di Bologna. L'opuscolo, presentato questa mattina alla Regione Campania, sarà diffuso nelle carceri campane come strumento per fornire informazioni utili sui diritti dei detenuti e sulle modalità con cui tali diritti possono essere esercitati fornendo consigli pratici anche sulla vita detentiva e sulle misure alternative al carcere. Il codice non vuole sostituire la consultazione delle norme di legge, ma esclusivamente agevolare la comprensione del possibile accesso ai benefici, così il garante Samuele Ciambriello. Noi mettiamo in campo un tipo di informazione che serve a salvaguardare i diritti e anche a mettere in evidenza i doveri dei detenuti. Lo dico perché in una società che considera il carcere un cimitero dei vivi, una risposta semplice a bisogni complessi, dobbiamo considerare queste persone diversamente libera, a cui va tolto il diritto alla libertà, ma non il diritto alla dignità. Il diritto alla dignità passa attraverso una serie di diritti, diritto alla salute, diritto allo studio, all'affettività, al lavoro. A tenere a battesimo il lavoro anche il responsabile osservatorio carcere Unione Camere Penali Italiane Riccardo Polidoro, il direttore ufficio detenuti e trattamento provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria Campana, Assunta Borzacchiello, e il presidente del Consiglio regionale della Campania, Gennaro Oliviero, che ai nostri microfoni ha spiegato. Questo lavoro è un codice ristretto, più uno schema, un prontuario per tutti i detenuti per rispetto alla loro condizione, per potersi districare nei vari codici della detenzione. Quindi questa è una cosa utile, come tante altre cose, il nostro garante per i detenuti fa in Campania. Noi dovremmo cercare di migliorare le condizioni di tutti quelli che vivono in condizioni di detenzione, ma insieme a loro anche le condizioni di chi lavora nel carcere.